Lavoro! 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 L'hiamo fatti, no, noi l'hiamo fatti, si torsi a voto, attenziamo! Fai battere alle quattro, ma una battuta a caldo! Lavoro! 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 Questo è stato un successo, è quello che siamo chiestere, è quello che era l'unico, e abbiamo avuto, quindi siamo davvero felici perché questo governo non aveva nessun motivo di esistere. La combattrice non c'è niente da fare, non bisogna ragionare con le fondazioni comuniste, abbiamo dimostrato che avevamo ragione, adesso avanti, intanti alla manifestazione del 17. Ciao a tutti, grazie a tutti! Cogna! Asi un pacco l'atto di fini, venduto! Cogna! 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 Caduto il governo, è caduta una speranza per tutti gli italiani di avere finalmente un cambiamento, un rinnovamento nuovo. Andremo noi dopo per gli occhi. Grazie per tutti. Grazie per tutti. Grazie. Noi ci batteremo da oggi e domenica, perché le ragioni dei comunisti italiani, la loro storia... ...i cittadini in questi ultimi due anni, per consentire all'Italia di entrare in Europa, non faranno persi... choices la vita e non faranno persi... Complirsti dotti alcuni merci persone! Grazie per tutti!!! Grazie a tutti!